Bene amici, oggi vi parlo di un sistema di allarme smart, non so se vi ricordate, io ho montato la Uno ormai da tantissimi mesi, sì, era forse due anni fa che l'avevo provato, quell'allarme smart di EasyWiz che si poteva tranquillamente comandare via app, ci andavano ad integrare un sacco di sensori, adesso finalmente arriva la seconda versione che va un po' a superare tutte quelle criticità che avevo rilevato. Prima di tutto ha la possibilità anche di mettere una sim card, quindi se va via il wifi, se va via la corrente, non c'è problema, continua a comunicare, via sim vi arriveranno le notifiche, ma anche grazie alla batteria tampone continuerà a monitorare e ripeto se c'è un allarme o qualche problema vi manderà comunque le notifiche. Questo è lo scatolotto, qua sotto c'è l'altoparlante, poi vedremo per cosa, qua c'è l'alimentazione, si può collegare al vostro router o via wifi oppure lo potrete anche cablare, e anche questa era un'opzione che mi pare non ci fosse nella vecchia versione. Dentro qua troviamo l'alimentatore, il cavo per portare proprio l'alimentazione, dei tasselli con un supporto perché volendo qua dietro si può anche collegare a parete, a soffitti insomma potete mettere un po' dove volete e c'è anche il cavo di rete. Ma non solo perché EasyWidz mi ha mandato anche questo accessorio, un tastierino per andare a inserire e disinserire l'allarme e anche per parzializzarlo. Anche questo è wireless e poi tutto si va a integrare all'ecosistema, quindi ai vari sensori, quelli magnetici da mettere a porte e finestre, al sensore antiallagamento, al sensore peer che è l'infrarosso per capire se c'è qualche movimento, e poi mi hanno mandato anche la nuova C6n che è la cam, insomma andiamo ad installare il tutto. Ed eccomi nel mio armadietto della connettività, ho collegato l'alimentazione, ho messo dentro una sim che attenzione è in formato mini, non nano, quindi la via di mezzo tra quelle grandi di una volta e quelle nano di ora e poi ho collegato la rete perché io preferisco avere un sistema callato, però vi ricordo si può collegare anche via wifi. Adesso semplicemente dall'applicazione, queste sono le camere di EasyWidz che ho già installate, basta schiacciare più, inquadrare il QR code che è quello piccolino lì sotto, eccolo qua, dai. Ok, l'ha preso, l'ha riconosciuto al volo e l'ha aggiunto veramente in 4 secondi. Lingua però forse è meglio mettere l'italiano. E come vedete pochi secondi dopo lo vedo correttamente nell'app EasyWidz, adesso devo aggiungere i rivelatori. Siccome io avevo già un sistema EasyWidz, ce li avevo già collegati a porte e finestre, QR code, stesso procedimento, basta farglielo leggere all'applicazione e ricollegarli alla nuova centrale. Io li avevo collegati alla vecchia, ovviamente stesso ragionamento, se li avete nuovi, niente, basta collegarli. Questi sono contatti magnetici che vanno messi a porte e finestre. Voilà, uno fatto. Se ne possono collegare fino a 32. E come vedete ne ho già inseriti 4 nell'app, ma volevo far vedere come sono fatti questi sensori magnetici. La batteria, devo dire che dura un sacco perché i primi che ho installato risalgono ormai a, sì, almeno un anno e mezzo fa e non mi hanno ancora dato problemi. Basta inserire la batteria, schiacciare più, far leggere il QR e guardate, veramente, inserire nell'app è un attimo, già fatto. E poi, ovviamente, volendo, si possono rinominare. Questo lo metto in bagno sulla finestra. Vado ad attaccarlo. E ovviamente in confezione c'è l'adesivo 3M. E tra l'altro se avete sentito un bling blong è la prova che funziona. Sentite? Quando faccio così? Bling blong! Quindi vuol dire che ogni qualvolta voi aprirete una finestra, una porta con un sensore attaccato, sentirete bling blong! Penso sia disinseribile. Poi collego anche la sirena. Ecco, mi sarebbe piaciuto che anche la sirena avesse la batteria. In realtà deve essere alimentata via USB. Vabbè, potete attaccarla a un power bank di quelli passanti che si caricano e scaricano contemporaneamente. Vai! Sirena collegata. Poi tocca al rivelatore a infrarossi. Devo dire che anche lui è qua da più di un anno e la batteria è ancora ok. E in bagno, sotto al lavandino, sensore antiallagamento. Perfetto! Collegato anche lui. E adesso collego il tastierino che poi metterò là vicino alla porta. Sono proprio curioso di capire come funziona. E sì ragazzi, è tutto montato. Anche la cam mi piace perché è motorizzata, infrarossi, ma soprattutto anche l'ingresso di rete. Quindi può essere configurata sia in Wi-Fi sia cablata. Consiglio sempre di cablarla. La possibilità di mettere dentro una micro SD per registrare i movimenti, ma anche la registrazione su cloud. E poi ho attaccato qua vicino alla porta la staffa, supporto, c'è il biodesivo in confezione. E si inserisce dentro il tastierino numerico. Tastierino numerico che serve a inserire, disinserire l'allarme in maniera parziale o totale. Ma c'è anche questo pulsante che è un po' un antipanico. Se c'è qualsiasi problema lo si schiaccia, suona la sirena, che è opzionale. Può anche non suonare la sirena, ma soprattutto arriva una notifica all'applicazione. Adesso metto il codice, perché ci vuole il codice per fermare l'allarme. La cosa interessante è, prima di tutto, che ha qua, vedete, un sensore di prossimità. Quando ci si avvicina si retroillumina il display e si accende. La batteria, dichiarata un anno da EasyWiz la durata, ma poi non bisogna cambiarle. Basta semplicemente attaccarle per qualche ora qua a una micro USB e si ricarica. Altra cosa interessante è il fatto che nel tastierino possono essere memorizzati più codici. Quindi possiamo avere un codice nostro, un codice della moglie, un codice della signora delle pulizie, in modo da non avere un codice univoco e dare quel codice univoco in giro. E si possono ovviamente disabilitare uno alla volta. Quindi cambiate magari l'inserviente oppure cambiate la moglie e potete cambiargli il codice. Vedete, hop, il sensore di prossimità funziona sempre decisamente bene. Ma ovviamente il cuore del sistema è l'app. Vi lascio un attimo alla clip che ho fatto con poca luce per far vedere la qualità di questa cam. E poi vi faccio vedere l'applicazione. Buio pesto, l'avete visto, quello che riprende la cam. E questo è quello che riprende invece la IP Cam. Cam non si vede niente. IP Cam con l'infrarosso si vede abbastanza bene. Sì, devo dire l'infrarosso ok. Et voilà, eccoci qua. L'applicazione è quella che conosciamo. Eccolo qua, sì, vedete, allarme, pulsante di emergenza. Mi è arrivata la notifica. Se clicco qua posso vedere la configurazione che ho fatto. La cosa bella è che ogni rivelatore può essere collegato a una cam in modo che scatti una registrazione se quel rilevatore rileva un'intrusione. Io praticamente ho abbinato tutto alla cam principale tranne quella del bagno, alla finestra del bagno, perché in bagno non ho una cam. L'inserimento può essere parziale oppure totalmente inserito. Quando andiamo a cliccare su un sensore, vedete, possiamo decidere se attivarlo, abilitarlo quando l'allarme è disinserito, inserito o inserito parziale, perché magari noi vogliamo che qualche sensore sia abilitato sempre anche quando il sistema è disinserito e lo si può tranquillamente fare. Qua nelle impostazioni vediamo la percentuale di batteria, la batteria tampone. Vi ricordo, se va via la corrente, tra l'altro, vi arriva una notifica, vi arriva anche un SMS, ma di questo ve ne parlo dopo. C'è il programmatore orario che può attivare o disattivare automaticamente l'inserimento dell'antifurto. Le notifiche audio che possono essere sonore o cicalino, avete sentito quello che vi facevo sentire quando anche si muovono i contatti. Impostazione del ritardo, si può settare il ritardo in inserimento e in disinserimento per dar tempo alle persone di aprire la porta e andare a digitare il proprio codice sul tastierino. E poi rete mobile. Rete mobile non solo per SMS e chiamate, sì, perché quando c'è un scatto di emergenza vi arriva un SMS, tra l'altro, adesso vediamo, sì, guardate, mi è arrivato proprio l'SMS che mi ha detto attenzione, porta aperta, questo è ieri, sì, infatti è successo così perché per l'allarme ho aperto una porta e mi è arrivato l'SMS, porta aperta e human detect, cioè ho rilevato una presenza umana, oggi invece, guardate, mi sono arrivati gli SMS di chiamata di emergenza. Non solo si può andare a settare il fatto che arrivi una chiamata. Purtroppo questa chiamata è muta, cioè non vi dice c'è un'emergenza in atto, c'è qualcuno che sta tentando di aprire la porta, ma è muta, però voi basta che registriate la sim che avete messo dentro alla centrale con un nome allarme e quando vi arriverà la chiamata sapete che comunque l'allarme potete andare a vedere dalle cam. Cosa succede? Cosa interessante è che se vi disabilitano il wifi, vi disabilitano la rete, tagliano il cavo, tolgono la corrente, la centrale continua ad andare perché grazie alla sim che è sì, 2G Edge, ma basta per comunque mandarvi la notifica. Oltre che SMS è chiamata proprio anche la notifica sulla applicazione. Qua vi dice anche appunto le impostazioni dell'APN, qua ci sono i contatti di emergenza, questo ovviamente è il mio numero di telefono, si possono aggiungere altri numeri. Oltre a questo vi voglio far vedere la cam, quello che vi dicevo, guardate come è buona la qualità e oltre a una buona qualità c'è la possibilità di spostarsi per andare a vedere quello che succede a 360 gradi. Tra l'altro si può anche fare una fotografia a 360 gradi e si può andare a parlare direttamente con la cam. Pronto, 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 mi senti? Mamma mia, sta facendo effetto Larsen. Aiuto! Stoppiamo subito il tutto. Ovviamente sentivate il ritorno perché l'altoparlante era attivo e là il microfono. Quando andiamo a vedere la cam si apre. Queste sono le registrazioni che abbiamo in cloud. Come vedete basta che la cam rilevi un movimento e parte automaticamente la registrazione. pane tilt che ci consente di fare anche automaticamente una immagine a 360 gradi e poi attivare il rilevamento automatico. Cos'è? Se la cam rileva una persona, un movimento la segue grazie proprio alla sua motorizzazione. Devo dire, interessanti anche i piani, cloud. Non è più come una volta EasyWiz ha rivisto i prezzi, una volta costavano veramente tanto, adesso non trovo più il menu per andare a fare l'abbonamento. No, dai, lo cerco. Ecco qua, archivio cloud, cloud play, abbonati. Vi faccio vedere come abbonamento annuale fino a 4 telecamere, 74,99€. con la registrazione che rimane per 7 giorni. Se abbiamo una cam sola per tutto l'anno, 49,99€. Vi dicevo, si può anche registrare sulla scheda di memoria o come ho io, anche sul registratore. Si chiama DVR, questo qua. Possiamo andare a convogliare lì tutta la registrazione delle cam, ma avere comunque un archivio in cloud lontano che nessuno può rompervi, distruggervi e portarvi via, può essere un'ottima soluzione di backup. Ottima anche questa soluzione per chi magari ha una casa in campagna, mi immagino, dove non c'è rete internet, dove non c'è wifi. Mette la centrale a un OS, con la sua sim comunque può ricevere le notifiche e è una soluzione molto intelligente. Quanto costa il tutto? 159,99€ la 1S, 89,99€ il tastierino. Una piccola critica a EasyWiz su due funzionalità che mi aspettavo non ci sono, ma so che EasyWiz è molto attenta ai feedback dei clienti, quindi magari le inserirà. La validità del codice del tastierino a determinati orari e giorni, perché se do magari il codice alla signora che viene a fare le pulizie, beh voglio che questo codice valga dalle 10 alle 12. Ora in cui viene fuori da quest'orario voglio che se mette quel codice tutto suoni. E poi altra cosa, non si può andare a condividere l'account, o meglio se io voglio dare la possibilità di inserire e di inserire da remoto l'allarme, devo dare il mio account. Volevo farvi vedere due cose di questa tastiera wireless, oltre ad avere qua tutte le informazioni, lo stato, la potenza del segnale, la modalità di inserimento che ovviamente è sempre attivata perché la tastiera deve essere sempre attivata, c'è la gestione utenti, quello che vi dicevo prima, vedete? Io ho fatto due nuovi utenti, si può creare un altro utente e dargli una sua password. Questa password sarà valida sempre, mi sarebbe piaciuto che questa password fosse stata valida solamente per determinati orari, come vi ho detto prima. Gli utenti si possono aggiungere anche direttamente dal tastierino, molto semplice da utilizzare. La cam costa 39€, ma al Prime Day secondo me ci saranno delle sorprese. Insomma, come al solito un bel sistemino da EasyWiz, anche perché comunque non costa molto, gli mancano quelle veramente tre stupidate per renderlo super interessante, ma così è super interessante lo stesso. Un saluto da Andrea Galeazzi.